Siamo sul porto di Forio con Nello Morgera, parliamo del degrado, vediamo tante barche a terra, tanta spazzatura, rifiuti anche secondo me nocifi che si trovano su questa spiaggia. Allora, questa spiaggia si dice che è di Marina di Reggio Verde perché lui ha la concessione del porto. Se voi a casa vostra non pulite mai, penso che la casa diventa sporca, giusto? Perché ci sono i cittadini che sporcano, ma è normale che oggi noi abbiamo l'isola affollata di gente e se andiamo sul centro di raccolta è più pulito. Senti, in effetti vediamo tante barche, ma qui ci sono anche alcune barche che secondo me sono ancora in attività, o mi sbaglio? Sì, vabbè, ma la barca non porta tanti, la barca è l'immondizia che porta tanti perché da qui sono usciti i migliori comandanti, i migliori motoristi perché i ragazzini si vedevano le barche sulla spiaggia e si divertivano. Ma è l'immondizia che fa male, ma non la barca sulla spiaggia perché la barca sulla spiaggia non ha fatto mai male a nessuno. Questa immondizia da quanto tempo sta? Secondo me da tanto, tanto tempo. Sì, sì, sta da tanto tempo, ma va bene, ma non è che oggi noi facciamo l'intervista, puliamo e domani mattina non si pulisce più. A casa nostra scopriamo tutti i giorni e pensa si deve pulire, non dico tutti i giorni, ogni 3-4 giorni si deve pulire. Allora chi è il responsabile che dovrebbe pulire? Per i turisti che vengono, una vergogna.